...e' una domanda... ...dopo di me, noi l'abbiamo facciato e abbiamo cercato... ...mi vediamo a fare dei testimoni... ...degli amici... ...degli amici che erano abituati e abbiamo fatto... ...e abbiamo fatto un'area di giustizia... ...di sei ad anni di convenzi di un'unità... ...e non continuiamo a tenere qualche momento... ...e cioè, un po' di parte, stasera scuola di commessa... Allora, la prima cosa che qualche tempo è che ti amo, tutto quanto è da tutti. E poi ti amo, non mi rende vani a 6 anni, non mi sono detto che gli anni sono scuscoli. Grazie a tutti.